primo gol Butic al sesto del primo tempo secondo gol sempre di Butic al diciottesimo di testa terzo gol al trentatresimo del primo tempo sempre per il Torino primavera ancora di Butic su calcio di punizione e l'ultimo gol sempre di Butic che fissa il punteggio definitivo sul 4 a 0 per il Torino primavera contro il Parma primavera è al venticinquesimo della ripresa di testa come avete visto con pallonetto